Studiando, studiando Domenico, vedi, quello che dico io è la summa in breve sintesi di un percorso duro e difficile, ma si può fare, sono qui a raccontarlo, anche di cose abbastanza, voglio dire, io gli abbia chiesto un appuntamento agli extraterrestri e sono venuti a una cosa che io ci credo solo perché l'ho vissuto, se me lo raccontava un altro, mi sa che questo è un po', però l'ho vissuta, l'ho vissuta e la testimonio, tutto lì, poi ognuno se la vede come vuole. Gli schivolanti ne ho visti a Iosa, a volte così, andando a rifornire stavano lì, o in Messico nel 2010 sono andato con i Ugi Urzi, abbiamo avuto 50 avvistamenti nel giro di una settimana, flottiglia, se sfere, di tutto abbiamo visto. Quindi il primo percorso domenico è studiare, cioè conoscere e riformare la propria comprensione della realtà, della natura del mondo, della natura della società e della natura del tuo essere e anche di Dio, insomma, tutto. Quindi, perché se no non ti vengono idee, cioè è inutile partire dalla posizione in cui si è all'inizio, non puoi prendere idee perché non sai cosa devi fare, non capisci bene come ti devi adattare, sistemare e quindi bisogna cambiare il percorso del pensiero, perché le strutture, torniamo al discorso che facevo all'inizio, che noi ci formiamo e che sono dei veri e propri scafandri, che hanno i loro automatismi, con i quali poi tra l'altro ci identifichiamo, no? Io sono fascista, no? Io sono comunista, tu non sei nell'uno o nell'altro, tu sei uno spirito che è soggetto a delle leggi che c'entrano, sono ideologie umane fatte da altri ignoranti nel regno di queste scienze, quindi sono tutte illusioni che dall'alto vengono progettate per far scontrare le masse umane e dividerle, dividi e timperi, infatti i fascisti, i grandi banchieri americani finanziavano l'Unione Sovietica, il banchiere della banca centrale dell'Unione Sovietica era un ebreo americano, questo penso che la dica tutta sullo stato di cose, è sempre così, i grandi potenti del mondo sono insieme, non esistono divisioni nel loro mondo, se voi andate a Porto Cervo dove vedete agglomerati gli yacht più lussuosi del mondo che vengono senza sbarco dagli Stati Uniti d'America e nelle loro suntuosissime sale fanno le orge gli americani con gli iraniani, con i russi, sono tutti insieme, non c'è divisione a quelli vecchi e fanno veramente le orge tra l'altro perché loro sono uniti e governano noi, noi siamo le pecore da tosare, i cuccioli d'animale, siamo il loro allevamento, il film Matrix è straordinariamente allegorico di queste situazioni, noi siamo la batteria che alimenta il sistema che loro sfruttano il loro vantaggio e loro non lavorano, loro gestiscono e muovono le leve della nostra vita, lo spettacolo, la cultura, la scienza, la tecnologia, l'economia, la muovono per i loro fini e noi sempre, c'è il debito pubblico, oh Dio mio, adesso c'è la crisi e le aziende chiudono, ma è tutto causato, non sono congiunture economiche sfavorevoli, è tutto pensato a tavolino, l'Italia deve essere fatta a pezzi perché nel momento in cui l'America incomincia a traballare l'Italia era uno dei paesi con il risparmio privato più alto d'Europa e quindi dovevano creare una situazione per depredare le tasche degli italiani, non solo, i PIGS, Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna hanno deciso, questi signori, Germania, Francia, Inghilterra, che sono quelli che comandano in Europa, hanno deciso che doveva essere il serbatoio di mano d'opera a bassissimo costo per cercare di far fronte allo strapotere della concorrenza cinese, cioè fare i cinesi di Europa e noi purtroppo siamo finiti tra i cinesi di Europa, perché? Perché Hollande e la Merkel che hanno grossi problemi interni hanno fermato la situazione in Ucraina, ma gli americani se ne fottono, infatti qualche giorno fa le prime truppe americane con i blindati sono già entrate in Ucraina, che ci hanno in testa? La guerra, che la Cina deve essere fermata, la Cina è l'obiettivo, abbattere la Cina, però prima deve cadere la Russia, questo è il loro progetto, tutto così, quindi dobbiamo informarci, cercarci fonti di informazione reali, vere e modificare il nostro pensiero attraverso lo studio di una cultura diversa dalla nostra, che è la loro. Loro ci hanno dato cultura, cultura, conoscenza, è quello di cui abbiamo bisogno.